Domani a Roma alle 15 in Via Veneto sotto la sede del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà la protesta dei titolari e gestori degli stabilimenti balneari contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso la proroga fino al dicembre 2023 delle concessioni balneari. Una rappresentanza dei manifestanti incontrerà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Sarà presente a Roma una vasta platea di balneatori abruzzesi. Il governo stava usando la manoforte contro la volontà dei partiti che lo sostengono, contro la volontà dei balneatori che hanno dato la promessa alla politica che si sarebbero seduti intorno a un tavolo. Abbiamo notato che all'interno del governo c'è chi sta lavorando contro la nostra democrazia, contro le imprese e meno male che abbiamo amici all'interno del Parlamento che ci hanno avvisato al momento. Il 23 dicembre si stava facendo uno scempio, si stava realizzando la nostra morte senza nemmeno darci la possibilità di apperlarci. Perché apperlarci? Perché nella sentenza del Consiglio di Stato noi abbiamo deciso che faremo ricorso in Cassazione. Se la manina si sarebbe inserita il 23 dicembre, molto probabilmente nella nostra sentenza sarebbe andata vuota perché il governo avrebbe sicuramente emanato una modifica della norma e quindi il nostro appello sarebbe stato inefficace. Quindi domani mattina saremo a Roma per far vedere la presenza ai partiti della maggioranza, al ministro Garavaglia, a Gelmini, a Gasparri, a Amendola, a Turchi, a tutto l'apparato governativo. E poi ci organizzeremo sicuramente, non ci fermeremo a domani, dovremmo organizzare, organizzeremo, partirà dall'Abruzzo la proposta di andare all'euro e di fare il raduno di tutti gli stabilimenti, di tutte le concessionali e maniali d'Italia. Dobbiamo risolvere il problema, dobbiamo fare la riforma. Facciamola insieme, tenuto conto che si mette intorno a un tavolo e si trova la soluzione, la quadra, per fare in modo che questa riforma sul codice della navigazione che riguarda il turismo e maniale venga definita una volta per tutti. Sono 20 anni che ci fanno sedere, sono 20 anni che ci prendono in giro, adesso basta. In concreto chiediamo che gli interlocutori che devono affrontare questa riforma non possono essere i tecnici ministeriali, ma deve essere la politica. Poi chiediamo che venga inserito all'interno di un domani, di un'evidenza pubblica, l'avviamento commerciale, il valore aziendale delle nostre imprese, la tipicità delle nostre imprese e anche la valorizzazione, nonché la rigenerazione, demaniale in modo da consentire anche a noi di fare una programmazione di investimento che sia a lungo termine.